Avete occhiavato? Si, c'è la proprio qui. Tu hai aggiornato software? Si, noi abbiamo finito. Questa arma può aiutare il militare degli Stati Uniti. Questa arma può desiderare un interno paese, un solo capo. Questo finirà il terrorismo in tutto il mondo, quello che dovremmo chiamato. Si chiamo. Stop, non si più finire io. Tu ci sei. Io sono dal futuro. L'arma si crea e porterà alla guerra mondiale. Che cosa parlando? L'arma che avete appena finito causerà la distruzione di tutto il mondo. Il mondo si trasformerà in chaos e terrore. Io non credo. Come facciamo a sapere che è dicendo la verità? Vieni con me, allora. Che posto è questo? Questo è il futuro. Perché sembra così? La sua merda. Perché fa aprire come questo? Questo è il risultato della guerra come l'arma. Abbiamo causato questo. Non c'è mondo questo è causato da noi. La nostra arma è supposiamo di aiutare il mondo, non distruggerlo. Adesso hai aiutato all'inizio ma poi abbiamo perso il controllo. Questo è la battaglia che si sono verificati a causa dell'arma. Mamma mia! Noi dobbiamo fermare le costruzioni di macchina. Tu devi ingegnare il presente. Che cavolo! Le batterie di macchina del tempo sono roti. Cazzo! Noi intrappolati. Perché tu hai chiesto di costruire l'arma? È il colpo il tuo. Stronzo! Questo è stato la tua attiva. Voi ragazzi dovete smettere di litigare o non saremmo mai in grado di salvare il mondo. Hai ragione. Abbiamo bisogno di tornare indietro e distruggere l'arma. Che cosa avete bisogno per riprovare il telefono? Abbiamo bisogno di trovare un'altra batteria. Se dove possiamo trovare uno. Uno di voi ha bisogno di venire con me. Vengo con te. Io resto qui. Smettere di cittani che ci fai qui. Sono dal passato e dobbiamo salvare il mondo. Hai bisogno di essere ucciso. Prima tu. Dite a la mia famiglia che il mano. Oh mio dio, appena ucciso un uomo. Melio lui che l'interna pianeta. Abbiamo capito. Perfetto, andiamo. Va bene, andate a distruggere quella cosa. A presto. OK. Ho cavale. Allora. Uno di loro. Rossano. Uno di loro. Sono da. Una. Unica. Ah. E �itore. Quasi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.